Rinviati al 15 marzo i festeggiamenti dei 100 giorni agli esami. Questo è quanto stato deciso nel corso della riunione di coordinamento delle forze dell'ordine tenutasi presso il palazzo del governo. La data è stata concordata insieme all'ufficio scolastico regionale e territoriale alla presenza dei rappresentanti della diocesi e del santuario di San Gabriele, sentita la presidente della consulta degli studenti. Hanno preso parte all'incontro anche i vertici della pulizia stradale, del comando dei vigili del fuoco e del 118. La scelta di posticipare dall'11 al 15 marzo la nota ricorrenza che ormai da anni vede riunirsi studenti prossimi alla maturità provenienti da tutto l'Abruzzo e non solo presso il santuario di San Gabriele è dipesa dalla impossibilità di garantire i controlli e i presidi di forze di polizia, vigili del fuoco, polizie locali e volontariato in concomitanza con le operazioni di scrutinio per le elezioni regionali che inizieranno a partire dalle ore 23 del 10 marzo e si chiuderanno nella giornata di lunedì 11. Come di consueto l'evento si svolgerà secondo la macchina organizzativa adottata nelle scorse edizioni che vedrà impegnati direttamente i sindaci di Isola del Gran Sasso e di Colledara i quali hanno confermato tra l'altro l'emanazione di ordinanze di divieto di bevande alcoliche ed ulteriori disposizioni in tema di viabilità. I nostri ragazzi, ha commentato il prefetto di Teramo Fabrizio Stelo, dovranno aspettare solo qualche giorno per far festa. I genitori potranno contare sulla massima disponibilità delle forze dell'ordine.